Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è una terribile notizia sta sconvolgendo i fan della trasmissione amatissima di Canale 5 condotta da Maria De Filippi Sta circolando una notizia di un terribile lutto che ha colpito il programma Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli delle notizie che stanno ultimamente circolando sul web Di seguito vi mostriamo il video shock che ha lasciato allibiti alcuni fan della trasmissione di Web Serie di luti a Web.E' di qualche mese fa la notizia che il noto collaboratore di Maria De Filippi è scomparso lasciando un vuoto incolmabile nel cuore e nella vita di molti protagonisti di Canale 5 Ora arriva un'altra terribile notizia comunicata proprio da una delle extroniste e corteggiatrici di Uomini e Donne Stiamo parlando di Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo, in seguito tronista Continuate a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando.Il terribile lutto per Giulia Cavaglia Poche ore fa un utente della rete, accamito fan della trasmissione di Uomini e Donne, ha postato un video che mostra Giulia Cavaglia sconvolta L'extronista di Uomini e Donne ha postato un video sul suo profilo ufficiale su Instagram, comunicando una notizia sconcertante ai suoi fan La notizia in questione riguarda un terribile lutto che l'ha colpita La donna ha pubblicato un video nel quale parla e spiega la sua situazione La giovane donna, infatti, è stata colpita da un lutto che difficilmente supererà se non con l'amore e l'affetto di tutte le persone che da sempre le sono state vicino Giulia ha raccontato di aver perso il suo amato cane, l'animale domestico che per 16 anni ha fatto parte della sua famiglia e della sua vita Ecco di seguito il video che Giulia ha scelto di condividere Ora Giulia si sente a pezzi e pensa che non riuscirà mai a risollevarsi da questo dolore L'extronista di Uomini e Donne è stata raggiunta dal numero 6 messaggi d'affetto che le hanno riempito il cuore e l'anima E noi non possiamo fare altro che stringerci al dolore della donna sperando che si riprenda al più presto Siamo sicuri che con l'aiuto della famiglia e degli amici ci riuscirà E voi cosa ne pensate? Credete che Giulia riuscirà a riprendersi presto? Fatecelo sapere Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie Grazie per la visione